Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, la Sacra Scrittura insegna che esiste un luogo di tormento nell'aldilà. Ma in questo luogo di tormento, chiamato Hades, scendono coloro che muoiono nei loro peccati. Quindi, è bene che voi sappiate, voi che siete dei peccatori, voi che siete schiavi del peccato, e che quindi siete nemici di Dio. Dico, è bene che sappiate che state andando in questo luogo di tormento, che è l'inferno. Un luogo di sotto, inferiore. Un luogo di tormento dove c'è il fuoco. Sì, avete compreso bene il fuoco. Un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre fuoco. E Gesù Cristo, il figlio di Dio, che nella pienezza dei tempi, è disceso dal cielo per volontà di Dio. Perché egli doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti la cagione della nostra giustificazione. Dico, Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha parlato di questo luogo di tormento. Lo ha citato diverse volte, ma in una circostanza lo ha citato nel parlare di una, nel raccontare una storia. La storia del ricco è l'azzo. Una storia che voglio leggervi perché è bene che voi che siete sulla via della perdizione, sulla via che mena l'inferno, sappiate questo. Cioè, sappiate dove state andando. Dice Gesù. Orvera un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. Vera un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulcere, bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani alle caglie e le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me. Mi manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per infrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tue, e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi, è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse, hanno Mosè i profeti e ascoltino quelli. Ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Dunque Abramo disse a quell'uomo, tu sei tormentato. sì, era tormentato nel fuoco e bramava che Lazzaro fosse mandato a intingere la punta del dito nell'anque per rinfrescargli la lingua, perché era tormentato. Ricordava, aveva il ricordo dell'acqua, quell'uomo, ma non gli fu data alcuna acqua per rinfrescarlo in mezzo a quel tormento. Rimase dunque tormentato. Ed è ancora là. Questo uomo è ancora dopo migliaia di anni, si trova ancora in questo luogo di tormento chiamato Ades. Ricordatevi quello che è scritto. Essendo nei tormenti. Dunque capite dove state andando? Capite che ciò che vi aspetta è il tormento? Dopo morti vi aspetta il tormento. Non vi aspetta alcun riposo, alcuna gioia, niente. Qualcuno vi dirà che passerete a miglior vita, ma ricordatevi voi peccatori che non passerete a miglior vita quando morirete. I peccatori non passano a miglior vita quando muoiono perché il soggiorno dei morti inghiottisce chi ha peccato. Voi dunque sarete inghiottiti dall'inferno perché siete dei peccatori, siete schiavi del peccato e meritate di andare ma il Dio mi ha mandato a predicarvi l'Evangelo. Cioè la buona novella. E qual è questa buona novella? Che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati incontrati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno e che apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Dovete quindi sapere che chi crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati e giustificato. Non solo. Chi crede nell'Evangelo ottiene la vita eterna e così scampa all'inferno. perché coloro che credono nell'Evangelo quando muoiono muoiono in Cristo e il Signore li salva nel suo regno celeste. Dunque coloro che credono nell'Evangelo sono sulla via della salvezza. Non più sulla via della perdizione ma sulla via della salvezza che mene in cielo nel paradiso. Quindi tu peccatore sì ti ho detto che non passerai a miglior vita perché chi muore nei propri peccati assolutamente va all'inferno. Però vedi ti ho annunziato la via della salvezza. Ti ho annunziato cosa devi fare per essere salvato dai tuoi peccati ed essere strappato così alle fiamme di questo luogo di tormento. Ravvediti dunque e credi nell'Evangelo della grazia di Dio e Dio avrà misericordia di te. Il Dio ti perdonerà. Il Signore prenderà i tuoi peccati e li cancellerà. Saranno cancellati capito? Come appunto come se venisse cancellato un debito. Ecco i peccati sono dei debiti e nel momento in cui crederai nell'Evangelo se ci crederai devi sapere questo che tutti questi debiti che hai accumulato nel cospetto di Dio ti saranno cancellati in un momento. in un momento e ti sentirai finalmente libero e ti sentirai finalmente sgravato da questo peso che è veramente che è come un macigno che pesa sopra l'uomo senza Dio. Quindi vedi da un lato c'è l'inferno questo luogo di tormento che inghiottisce i peccatori ma dall'altro c'è il regno dei cieli il paradiso dove il Signore salva coloro che hanno creduto e dunque sapendo che così è scritto chi non avrà creduto sarà condannato io ti ho avvertito ti ho avvertito che cosa ti succederà se rifiuterai di credere nell'Evangelo tu dirai ma com'è possibile ma non c'è un'altra via di salvezza no non ce n'è un'altra questa è la via della salvezza e l'Evangelo è l'unico messaggio che esiste veramente sotto il sole eh sotto il cielo è l'unico messaggio mediante il quale l'uomo viene salvato non ce n'è un altro te lo posso assicurare quindi non ti fare beffe dell'Evangelo e non posticipare quello che appunto di fare quello che Dio ti comanda di fare ravvediti in questo momento e credi nell'Evangelo e il Signore avrà misericordia di te perché il Signore è pronto a perdonare coloro che credono nel suo figliuolo Gesù Cristo sì Gesù il Cristo di Dio è il figlio di Dio che il Padre ha mandato nella pienezza dei tempi nel mondo per essere il salvatore del mondo per salvare i peccatori quindi peccatori sappi che solamente se crederai nell'Evangelo sarai salvato e poi quando morirai passerai a miglior vita allora sì passerai a miglior vita sicuramente una volta che hai creduto nell'Evangelo perché morire in Cristo è cosa di gran lunga migliore perché si va ad abitare con il Signore nel regno dei Cieli allora sì allora sì in questo caso sì perché appunto uno è morto in Cristo allora sì lui lui sì che è morto in Cristo sì chi è passato a migliori vita come si suol dire ma altrimenti altrimenti se rifiuterai di credere nell'Evangelo ti aspetta questo luogo di tormento terribile e ti voglio dire un'altra cosa sei malato forse sei malato ti diciamo ti manca poco tempo di vita i dottori hanno detto che hai poca vita ancora sulla faccia della terra ora qualcuno magari ti sta dicendo smetterai di soffrire e no no io non ti lusingo non smetterai per niente di soffrire anzi soffrirai di più perché te ne andrai all'inferno nel fuoco nei tormenti quindi ravvediti ravvediti e credi nell'Evangelo che ti ho annunziato è l'Evangelo della grazia di Dio ravvediti e credi nell'Evangelo che orecchi d'audito oda a l'Evangelo a l'Evangelo a l'Evangelo Grazie a tutti